shopping barocco un mattino d'autunno a comprare le mele le banane e il caffè tu passi da indifferente col carrello mezzo vuoto non so a chi tu sorrida ma io lo so non esista faccio il mio shopping barocco e disincantato poi torno a casa pensando come sarà il tuo profumo chissà con chi lo condividerai adesso costruire durante il vostro turno potete costruire tutti i piani che volete la condizione cioè con quelli che abbiate abbastanza blocchi e risorse per costruire per fare ad esempio un piano ci vogliono vedete c'è scritto qua no due risorse c'è scritto anche sulla tua carta due risorse qualsiasi giusto e basta per fare un e 3 ed è un punto un punto torna a fiorire la pianta nel vaso sembrava ormai spenta inerte sta regalando colori a chi non è dal tonico nel cuore soprattutto sta elargendo profumi a chi non è anosmico nell'anima certamente la pianta nel vaso sembrava o non è un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti.